Wow, che cosa sarà stato? Incubo o terremoto? Dei mostri malefici mi hanno assalito e la terra ha tremato! Premi il tasto azione per far scorrere il testo o per chiudere la finestra. Usa il tasto ruota la visuale a sinistra o il tasto ruota la visuale a destra per ruotare il punto di vista in senso orario o anti-orario. Questo ti aiuterà a conoscere meglio ciò che ti sta attorno. Melvin, quante volte ti ho già detto di non saltare sul tavolo?